Carissimi, come va? Oggi ritorno a parlare dell'amore che, come avrete forse compreso, è uno dei temi principali, una delle tematiche che affronto più spesso nel mio canale, e oggi vorrei parlarvi della distinzione tra agape e ludos, che sono le due tipologie principali di amore, in realtà ce ne sono anche delle altre, delle sottocategorie, però in buona sostanza le due principali sono proprio queste, agape e ludos. Agape è l'amore romantico idealistico, spesso anche inteso nel suo significato più puro, talvolta non corrisposto, talvolta a distanza, talvolta un amore poetico sublime, pensate ad esempio all'amore di Dante per Beatrice nella Divina Commedia. E poi c'è un'altra tipologia di amore, che è invece l'amore inteso più come sentimento rivolto all'eros, alla sessualità, al gioco, all'avventura, alla transitorietà, e quindi alla vita concreta non idealizzata, non poetica, non proiettata all'interno di immagini letterarie e idealistiche, ma la vita così com'è. E quindi quest'altro tipo di amore è l'amore definito ludos, perché in realtà è un po' un gioco, non è un amore proteso al sentimento stabile lungo nel tempo, ma è il gioco, il gioco del corteggiamento, e quindi dell'avventura fugace, passeggera, transitoria, fin tanto che dura, come va, va. Questi sono i due principali metodi, stavo dicendo, i due principali modi, le due principali forme di amore che ci sono e che poi in realtà, intrecciandosi anche fra loro, possono costituire delle sottocategorie, però principalmente questi sono i due opposti, questi sono i due lati della stessa medaglia, cioè l'eros, l'amore, la passione, che può essere intesa sia in ambito così idealistico e sia però in un ambito più concreto, avventuroso, giocoso, ma transitorio. E qual è la miglior forma? Qual è la miglior forma di amore? Cioè qual è quella passione, quel modo di essere, quel modo di vivere che può davvero donarci la felicità? E in realtà non c'è, in realtà non esiste una forma, un modo di vivere, un modo di essere migliore di un altro. Non c'è, dipende effettivamente da quello che volete voi, dipende da quello che voi nel profondo desiderate, ma soprattutto dipende da quello che è il nostro carattere, il nostro carattere profondo. Certamente, se siete una persona alla ricerca di avventure, anche nella vita, ad esempio i cosiddetti eye sensation seekers, che sono le persone che cercano grandi sensazioni adrenaliniche, se avete questo tipo di carattere, questo modo di essere, questo modo di vivere nel mondo, è chiaro che tenderete a prediligere l'avventura. Questo è quello che tenderete a fare spontaneamente, proprio perché se voi siete già avventurosi per vostro conto, se voi avete già questo modo di essere, di vivere nello sport, nelle passioni, nelle nuove esperienze, certamente anche per quanto riguarda poi l'amore, avrete questo tipo di predilezione per l'amore ludico, giocoso, l'avventura transitoria. E invece, se siete più delle persone romantiche nel senso classico della parola, cercherete di inquadrare l'amore nell'ambito più idealistico. Che cosa volete che vi dica? Secondo il mio punto di vista, l'amore idealistico agape spesso tende a essere una sorta di costruzione mentale rigida. Per quale motivo? Questa è una mia opinione, chiaramente, non è che deve per forza essere anche la vostra, perché in realtà noi, quando viviamo il sentimento amoroso, dentro questo tipo di sentimento c'è anche il cosiddetto stato meditativo della nostra mente, della nostra coscienza. Lo stato meditativo, che è quello che si ottiene, che si prova, che si sperimenta durante la meditazione. Noi abbiamo questo stato interiore di vuoto e di gioia, di quiete, di vitalità, che può essere attivato nella meditazione, ma anche poi quando ci infatuiamo di una persona e quindi ci sentiamo un tutt'uno con il mondo. E ci sentiamo infiniti, ci percepiamo infiniti, percepiamo cioè l'infinità della vita. Ora, il punto qual è? Il punto è che l'agape, quindi l'amore romantico, idealistico, l'amore per tutta la vita, l'anima gemella, questo tipo di amore idealizzante, l'agape, tende a prendere lo stato meditativo, che ripeto, è uno stato interiore naturale di noi esseri umani, e poi prende questo sentimento e lo va a incollare, lo va a incassellare all'interno di una relazione singola con una persona. Il punto però qual è? Che questa associazione mentale è semplicemente un'associazione, non è nient'altro se non una semplice associazione di pensiero, cioè tu decidi di associare questo sentimento meditativo così ampio, dove tu percepisci il divino, dove tu percepisci l'unità, ti senti un tutt'uno con il mondo, associ, associ questo sentimento con la persona che hai incontrato, perché quella persona certamente ha risvegliato in te questa percezione, però l'associazione mentale, attenzione che qui è importantissimo, l'associazione mentale tra lo stato meditativo della non mente, chiamatelo come volete, questo stato interiore di unità con il mondo, e la persona amata, è un'associazione spesso rigida, che dipende dal pensiero razionale, perché noi con i pensieri, con i pensieri, ci convinciamo che siccome abbiamo provato questo stato meditativo con quella data persona, allora con i pensieri ci convinciamo che lei è l'uomo o la donna della nostra vita, e quindi poi che cosa succede? Che quando la realtà ci tradisce o ci mostra un'altra faccia della medaglia, quella persona non ci corrisponde più, oppure non soddisfa più le nostre aspettative, non riesce più a garantirci il benessere nella vita, noi abbiamo però mantenuto nella nostra interiorità una identificazione troppo ristretta, cioè questa identificazione rimane, e questo crea dei problemi inevitabilmente, crea dei problemi perché noi diventiamo rigidi, diventiamo statici all'interno di qualcosa che non esiste più, che esiste semplicemente nella nostra mente, è solo un'associazione mentale che rimane statica, rimane standardizzata come uno standard dentro di noi, solo che se la vita poi ti dice diversamente, ti dimostra diversamente, quella persona non fa più per te, allora tu ti sforzerai, allora tu cercherai di nuovo di corrispondere a quell'idea, ed è da qui che nascono le nevrosi, cioè tutti quei disagi, quelle tristezze, derivano proprio da questo aspetto, da questo aspetto che noi non riusciamo a riconoscere, perché ci affezioniamo al nostro io, e ci affezioniamo a questa piccola identità, a questa identità ristretta. E questo ci crea chiaramente disagio, tristezza, ci rattrista, come potrebbe essere altrimenti, se la vita si dispiega in continuazione, in un continuo mutamento, nella sua imprevedibilità, ma noi rimaniamo standardizzati, chiusi in questa idea di pensiero, che è quella del matrimonio, che è quella della coppia idealistica stabile, che è quella che ci è stata insegnata da piccoli, per la maggior parte dei casi, allora noi finiamo per rattristarci, perché l'idea che abbiamo in testa non corrisponde più con la realtà dei fatti. E invece, per quanto riguarda l'amore ludico, il ludos, quello che, come vi ho detto prima, è quello che provano gli eye sensation seekers, i cercatori di grandi sensazioni, non ha questo problema, proprio perché non proietta delle idee troppo rigide, non proietta delle idealizzazioni, degli schemi mentali, delle idee che noi ci facciamo nei confronti di noi stessi e del mondo. Non ci sono queste idee, si vive l'amore nel presente, come va-va, e non si pensa che per forza debba esserci un partner a lungo termine. Fintanto che dura, ci fa ovviamente piacere, si vive nel presente, nel presente l'amore, ma si rimane sempre liberi, si rimane liberi, e quindi si vive la vitalità, la pienezza della vita e non le idee illusorie che ti costruisci dentro te stesso e che poi ti butteranno probabilmente nella crisi quando qualcosa va storto. Semplicemente vivi l'amore nel presente e lo vivi come un gioco. In realtà la vita è un gioco, un gioco a volte impegnativo, a volte anche difficile, ma noi ne sappiamo ben poco, la vita è un grandissimo mistero, quindi come si può incassellare una passione amorosa dentro uno schema mentale così rigido, così ristretto. È una semplice illusione, è una forma di hubris, cioè di tracotanza, di superbia, del pensiero razionale, ma al di là di questo pensiero razionale che cosa c'è? Ci sono gli occhi che si innamorano, c'è la nostra sessualità che si risveglia, il nostro corpo che si eccita, c'è un senso di grazia, di pace, di totalità nel presente e il resto lo inventi tu, il resto lo inventi tu, non esiste, te lo inventi tu, te lo costruisci tu nella tua mente, soffri per qualcosa che con tutte queste idee, con tutte queste proiezioni di pensiero, ti sei inventato tu e neanche te ne sei accorto, paradossale. Se uno ci pensa, è davvero qualcosa di paradossale. Il problema spesso è che noi non siamo pienamente consapevoli di questo meccanismo, e proprio a causa di questa inconsapevolezza, proprio a causa di questa mancanza di conoscenza di come funzionano effettivamente i meccanismi della nostra mente spontanea, inconscia e poi del raziocinio, siccome noi non conosciamo questi meccanismi, allora ci inventiamo che lo stato meditativo debba necessariamente appartenere a qualcun altro e quindi finiamo per ipotecare tutta la nostra vita nelle mani di qualcuno quando in realtà questo qualcuno non ci deve proprio niente e noi siamo sempre soli. Siamo soli. Ma all'interno di questa solitudine c'è già lo stato meditativo che noi cerchiamo con l'agape, con l'amore idealistico. Quindi lo puoi provare pure da solo, praticando lo sport, praticando la meditazione, anche praticando l'altro tipo di amore, il ludos, c'è comunque un assaggio di questa percezione di infinito. Non sono delle categorie troppo ristrette, anche senza avere grandi aspettative, nel presente puoi vivere una parte di agape, però rimanendo nella visione dell'amore come un gioco. Ma per far questo devi star bene da solo, devi convincerti con grazia, con tranquillità, con apertura mentale, che comunque sia siamo soli e quindi non c'è motivo di angustiarsi, di rattristarsi per questo e allora quando davvero l'accetterai, proverai via via, con la meditazione, con lo sport, con il corteggiamento, con l'amore finché dura, a sentire lo stato meditativo nel presente. Allora a quel punto, quando lo senti già dentro di te, questo stato, questa percezione, non avrai più bisogno di cercarla altrove e non avrai più bisogno di associarla ad un partner. e quindi pur essendo solo, sarai libero e vivrai pienamente l'amore finché dura e godrai davvero della vita nel presente. Ho voluto realizzare questo video dicendovi quella che è poi la mia opinione, ma che ovviamente non deve essere per forza la vostra, non deve esserlo, quindi ognuno di noi poi può avere le sue idee, io ovviamente rispetto le idee di tutti. Vado a questo punto a proseguire la mia passeggiata, ho ricevuto tra l'altro dei messaggi di una persona che mi fa vivere lo stato meditativo e che mi ha messaggiato adesso, tanto che si è sentito il rumore del telefonino mentre stavo facendo il video e quindi continuo con i miei giochi avventurosi e tra l'altro vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube. Iscrivetevi se non lo avete fatto, mettete mi piace, commentate, sono curioso di poter leggere i vostri commenti, le vostre considerazioni, le vostre riflessioni, io sono aperto alla mentalità, al modo di essere e di vivere di tutti e ascolto le opinioni di tutti e quindi carissimi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!